Allora, advertising su LinkedIn, non diamo nulla per scontato, diciamo che tutti avete almeno qualche esperienza o qualche idea, per cui solo con noi andiamo veloce, ma anche solo per non dare nulla per scontato faremo anche una carrellata su informazioni abbastanza base, ad esempio partiamo dai formati disponibili, perché non tutti hanno sperimentato tutti i formati in effetti, noi parleremo non di tutti, cioè parleremo dei due che oggi ha più senso utilizzare, principalmente ci sono tre tipi di formati, gli annunci, i contenuti sponsorizzati e le email. Quello di cui parleremo solo adesso e poi non lo riapriremo più, a meno che non abbiate delle domande, perché io lo conosco e possiamo anche fare degli esempi se vorrete, ma io sconsiglio di utilizzare, di perderci troppo tempo, sono quelli che LinkedIn chiama annunci, sono quelli che troviamo sotto la barra di navigazione in formato testuale o nella colonna di destra o sotto forma, anche se questo in realtà è programmatic, però diciamo sotto forma di banner o più tipicamente sotto forma di questo formato, quindi la piccola immagine 150x150 mi pare un breve copy. Perché possiamo parlarne veramente poco? Perché fondamentalmente rispondono a una logica ormai un po' vecchia, un po' sorpassata in alcuni casi di advertising, quella display, la logica con cui è partito l'advertising sui social e sui siti, che non è morta, ci mancherebbe, perché pensiamo ai giornali online vivono di questo, quindi sicuramente non è morta anche se ne sono cambiate le logiche, però rappresenta più il paradigma dell'interruzione, quindi un messaggio pubblicitario spesso non contestuale e sicuramente non voluto e non ricercato, come invece per esempio un AdWords che rispecchia la volontà di ricerca dell'individuo, quindi che interrompe l'esperienza d'uso, quindi spesso poco gradito, che ha delle performance, anche qua le generalizzazioni sempre con le pinze, però ha delle performance non eccezionali ed è talmente un paradigma in discesa che in effetti è solo sul desktop, non è nemmeno presente sul mobile, cioè se voi aprite la homepage di LinkedIn, questi li trovate sempre, poi se fate caso a chi sono gli inserzionisti di queste campagne, vi rendete conto che le PMI per esempio non le utilizzano, vengono utilizzate o da investitori spesso internazionali che magari rispondono anche a logiche di investimento un po' diverse, o magari chi ha un prodotto a sottoscrizione, quindi a billing ricorrente, dove quindi magari l'alto costo di questo advertising, non so se avendo un software che lo provi gratuitamente, poi ti parte il pagamento di 20 Euro al mese per tutta la tua vita, magari ne trovate di queste tipologie di inserzionisti in questi formati, perché possono avere una profittabilità molto alta sul lungo termine, ma è veramente abbastanza tipo Vimeo Pro per esempio, scrivete a Vimeo, incominciate a metterci i vostri video, non vorrete più lasciare Vimeo perché mai avete i video e i link e continuate a pagare i vostri X Euro per tutti i giorni del vostro business futuro. Invece su mobile non avete mai visto un contenuto di questo tipo, non esiste proprio lo spazio sul mobile, quindi noi non lo approfondiremo, ma se avrete delle domande e vorrete vedere, vi farò vedere poi nel campaign manager dove si trova, però di recente LinkedIn ha reso disponibile anche per gli utenti self-serve, perché noi oggi parleremo di campaign manager, quello che voi avete sul vostro computer, non è un software installato, ma a cui potete accedere direttamente e potete gestire quasi tutti i formati. Una cosa ad esempio che non si può gestire, lo vedremo dopo, è un certo tipo di email, fino a poco tempo fa non si potevano gestire gli annunci dinamici, che sono quelli in cui compaiono delle informazioni prese dal profilo del visualizzatore, potrebbe comprare la vostra foto, magari vi è capitato come utenti di vederli, o il vostro nome tipo Fabiana, iscriviti a questa cosa, quindi come i campi dinamici dell'email marketing. Una volta erano riservati questi formati alle agenzie che lavorano con la concessionaria di LinkedIn, adesso invece sono disponibili per tutti in area self-service. Questo magari potrebbe essere uno dei pochi formati che potrebbe avere senso di prendere in considerazione in alcuni tipi di campagne, perché grazie alla personalizzazione potrebbero magari avere un'efficacia più interessante. Però è proprio l'ultima possibilità. Poi, secondo formato e uno che invece approfondiremo molto, e quello che avete usato nella maggior parte dei casi, è il contenuto sponsorizzato, perché è ciò a cui oggi siamo abituati ovunque, non solo su LinkedIn. Facebook sicuramente è stato colui che ha avuto il merito di sdoganare il native, inteso proprio come contenuto del feed sponsorizzato, anzi ne ha fatto la fortuna di Facebook e l'unica opzione per le aziende oggi è di avere un briciolo di visibilità, perché sapete no, su Facebook visibilità organica per le aziende è molto difficile oggi. Ed è quello che funziona sicuramente anche molto su LinkedIn, il paradigma appunto è quello del native advertising, quindi un formato non interruttivo come un banner, ma è simile ai contenuti organici fatti dagli utenti per il suo formato, in questo caso la contestualità è data semplicemente dal profilo di chi lo vede, non da una parola di ricerca come su Google per esempio. È molto ricco in termini di opzioni di creatività, perché ci sono diversi formati che si possono usare, immagine singola, video, carosello, quindi anche il solo testo, ma non avrebbe senso. Può essere utilizzato per varie finalità, generare traffico, generare lead, generare lead con un modulo integrato o verso una landing page o anche solo per spingere le visualizzazioni di un video, quindi per fare awareness per esempio, quindi tante opzioni. È tipicamente più gradito, nel senso oggi, adesso faremo un piccolo esperimento, lo troviamo sempre nel newsfeed, che sia da mobile, che sia da fisso, ma quasi non ce ne accorgiamo, voi sì perché siete utenti più sensibili chiaramente all'advertising, ma l'utente è meglio su LinkedIn quando scorre il newsfeed e vede una notizia, un post, spesso quasi non si accorge anche se c'è scritto che è sponsorizzato e questo ne determina anche una buona efficacia evidentemente, tanto da mobile, come dicevo, quanto da desktop, quindi un formato più trasversale possibile. E poi il terzo formato è quello delle in-mail, come abbiamo citato, questo anche lo approfondiremo, quindi mail sponsorizzato da non confondere con l'in-mail come messaggio a pagamento per gli utenti premium. Tanto è vero che io utilizzo ancora la terminologia in-mail sponsorizzata, ma LinkedIn ormai col nuovo campaign manager la chiama tipo formato messaggio. Io ho mantenuto la vecchia terminologia, perché siamo un po' in una fase di transizione, anche il campaign manager era recente, ma sarebbe formato messaggio. Si trova, si riceve dentro la propria messaggistica, quindi insieme ai messaggi che vi mandano i vostri collegamenti o le richieste di collegamento accettate se sono accompagnate da un messaggio, ma sono sponsorizzati, quindi si vede il termine sponsorizzato e il formato è ben diverso, perché c'è la parte di banner, si può formattare il testo, poi entriamo nel dettaglio di queste cose. La grande differenza, questa la diciamo subito, è che rispetto ai messaggi di LinkedIn o alle e-mail dell'e-mail marketing non c'è il tasto rispondi, quindi non sono messaggi la cui reazione può essere una risposta diretta nella messaggistica, ma c'è sempre un bottone con una call to action che può essere aprire un modulo di regeneration, andare verso un sito internet o alcune altre opzioni, ma non ne mai rispondi. Parlando di formati disponibili per tutti o alcuni riservati alla concessionaria, l'e-mail dal campaign manager in area self per ora è riservata alle persone, quindi il mittente può essere solo un nome, cognome, persona, non un brand, un'azienda, a meno di non usare un piccolo trick che sconsiglio, ma che poi vediamo, chiaramente. Se si vuole fare una campagna in cui il mittente è un brand, bisogna andare tramite la concessionaria. Il paradigma a cui risponde l'e-mail è quello del direct marketing, direct e-mail marketing, chiaramente in questo caso. Non è sicuramente alternativo all'e-mail marketing tradizionale, però può essere alternativo all'e-mail marketing fatto attraverso l'acquisto di database, perché chi ha mai fatto una campagna di e-mail marketing acquistando database direttamente con un'agenzia? Mai fatto? Faccio list building ma non compro mai database. Ok, se si compra un database, comprare nel senso magari non si compra i dati, compra l'utilizzo, chiaramente, no? Sapete che i tassi di apertura fanno piangere fondamentalmente, vien proprio da sbattere la testa contro il muro dopo averlo fatto. Quindi, mentre sicuramente possiamo dire che l'e-mail marketing non è assolutamente morto, se avete una vostra lista è oro, se l'avete soprattutto abituata a ricevere i vostri messaggi. Noi, ogni volta che facciamo delle attività, i maggiori risultati, le maggiori conversioni li abbiamo sempre nella nostra database, perché facciamo molto lead nurturing, per cui abbiamo chiaramente persone che ci seguono con molto piacere. Però quando bisogna andare su persone che ancora non si conoscono e si ha bisogno di argomentare, perché nel contenuto sponsorizzato bisogna essere molto sintetici, poi ne parleremo, l'e-mail vale tantissimo.